Una visita di lavoro, così è stata definita dall'autorità di Mosca, l'arrivo a sorpresa di Putin nella città ucraina di Mariupol, nell'autoproclamata Repubblica Popolare di Donetsk, arrivo condannato dalle autorità locali coraine come la visita di un criminale internazionale. E su Putin la Corte Penale Internazionale ha detto si può processare come avvene per i nazisti e per Milosevic. In risposta il Cremlino ha affermato che gli investigatori russi registrano accuratamente tutti i crimini di Kiev, i file forniranno la base per un tribunale in futuro.